Un mezzo tuttofare, versatile, unico nel suo genere, è l'Unimog, un veicolo speciale di Mercedes-Benz, nato per la sicurezza e la manutenzione stradale. Carraro SPA, concessionario ufficiale Unimog per il Veneto, ha organizzato Unimog Winter Experience, una giornata in cui conoscere e vedere all'opera questo straordinario mezzo ad Auronso di Cadore, proprio ai piedi del lago, ora ghiacciato di Misurina. Giornata iniziata a mattina presto con l'arrivo dei primi ospiti, in particolare gli enti pubblici, che si sono dimostrati sensibili all'uso delle tecnologie, in 200 tra rappresentanti dei comuni, delle province e delle imprese di Veneto, Friuli, Venezia e Giulia e Trentino Alto Adige, non solo, anche l'ANAS di Roma, Veneto Strade, la Protezione Civile e Autostrade per l'Italia. Dopo la lezione teorica, per scoprire le caratteristiche dell'Unimog, insieme anche ai marchi delle più prestigiose attrezzature montate sul veicolo, l'evento si è spostato in un piazzale opportunamente innevato. Il clou, la parte più spettacolare, è stata infatti il Test Unimog. Il personale tecnico qualificato ha dato dimostrazione delle principali manovre di sgombero neve e spargitura del sale, proprio ai piedi delle splendide dolomiti che incorniciano la località. È una giornata straordinaria anche a livello meteo che ci permette di vedere questo incredibile veicolo che è l'Unimog di casa Mercedes-Benz. È un veicolo portattrezzi, lo dice l'acronimo Unimog, Universal Motor Gerete, ovvero macchina portattrezzi. In questo caso abbiamo attrezzatura invernale, quindi oggi vedremo lo sgombero della neve che è ideale per l'ente pubblico. Ci troviamo nello splendido scenario di Misurina, alle mie spalle ci sono le tre cime di Lavaredo che rendono omaggio a questo magnifico veicolo. Un'occasione davvero unica che ha permesso di testare con mano quanto sia confortevole e potente Unimog. L'eccezionalità è quella di poter abbinare ad un unico veicolo fuoristrada una serie di attrezzi, facilmente smontabili e intercambiabili. Lame, cassoni, frese, vomeri e per la bella stagione falce a erba, diverse combinazioni in un unico investimento. Siamo a bordo di uno di questi straordinari mezzi, quali sono le principali caratteristiche tecniche? Le principali caratteristiche sono senza dubbio la meccanica 4x4, questo è un veicolo a trazione integrale permanente 4x4 con tre dispositivi di bloccaggi differenziali, bloccaggio differenziale centrale, uno posteriore e l'altro anteriore. Altra peculiarità di Unimog sono le sospensioni a molla che permettono grandissime escursioni. Un'altra caratteristica tecnica la vediamo ora. Certo, Unimog è l'unico veicolo al mondo che dispone dell'accessorio VarioPilot. Cosa vuol dire? È la traslazione del volante da destra a sinistra che si consegue in pochissimi secondi. Adesso daremo una dimostrazione pratica. Dopo aver tolto il coperchio al di sotto del cruscotto si sgancia il volante con una semplice operazione e si trasla letteralmente dalla parte apposta. In pochissimi secondi. Quali altre sono le caratteristiche tecniche e gli accessori presenti in Unimog? Una cosa molto importante è il momento di ordinare l'Unimog perché può essere configurato con moltissimi accessori a seconda del tipo di attrezzo che deve essere utilizzato. Uno di questi accessori principali è la presa di forza frontale che sviluppa una potenza di 160 kW per movimentare degli attrezzi rotativi frontali. Altro accessorio importante è il comando idraulico, l'impianto idraulico a comando proporzionale che permette una regolazione precisa degli attrezzi frontali. Come ultimo accessorio che è entrato in produzione da poco ci sono i fari regolabili e a seconda dell'altezza della lama, quindi a seconda che montiamo lame anteriori meno o più imponenti, i fari vengono regolati di conseguenza. Ad Unimog Winter Experience naturalmente non sono mancati nemmeno i referenti della casa madre, da sempre infatti Mercedes-Benz è molto attenta alle tecnologie e alle innovazioni. La Carraro ha organizzato questa manifestazione in uno scenario magnifico, bellissimo. Noi siamo venuti con sei Unimog, abbiamo avuto una folta rappresentanza di amministratori locali e anche nazionali, quindi riteniamo che sia una delle più belle manifestazioni che si sono mai state organizzate per presentare l'Unimog nel settore della viabilità invernale. Vorrei ringraziare veramente la nostra concessionaria Carraro di Belluno di questa bella manifestazione, perché in questo posto stupendo è qualcosa di particolare. E' un investimento nel nostro marchio, è molto importante fare questi inventi per mostrare e anche provare Unimog, perché è importante dimostrare una nuova gamma e anche cosa si può fare nel servizio invernale, eccetera, con l'Unimog. Oggi con tutta questa neve che noi abbiamo qua è un spettacolo, sono condizioni particolari. Unimog Winter Experience ha destato grande interesse, soprattutto perché per la prima volta in Italia è stato possibile ammirare l'intera gamma di questi imponenti mezzi di recente completamento e adeguati alle normative anti-inquinamento Euro 6. Veicoli rinnovati, più robusti, più affidabili e flessibili nell'utilizzo. Tutti talmente catturati dall'imponenza dell'Unimog in azione che anche una doccia di neve fresca è sembrata straordinaria.